Musica Parliamo ora di mobilità sostenibile nello spostamento casa-scuola. Riparte il Pedibus, promosso e organizzato da Roma Servizi per la Mobilità in collaborazione con il Comitato di Quartiere Vigna Murata e il Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo Domenico Purificato ubicato nel quartiere di Fonte Meravigliosa. Tale progetto è stato avviato in maggio 2019 ed è proseguito fino a marzo 2020 interrompendosi durante il lockdown. Si tratta di un modello di mobilità alternativo rispetto a quello dell'utilizzo del mezzo privato più sostenibile e rispettoso dell'ambiente per affrontare tutti i giorni lo spostamento casa-scuola rafforzando anche lo spirito di comunità e si realizza mediante l'accompagnamento da parte di volontari dei bambini della scuola primaria su percorsi pedonali, protetti e in sicurezza. Nello specifico per questo istituto sono stati previsti quattro percorsi caratterizzati da capolinea e fermate identificati dai colori blu, viola, arancione e verde che permettono di raggiungere la scuola da tutti i punti del quartiere da nord, dalla zona di Vigna Murata da sud, da quella di Castello della Cecchignola da est, dalla zona di Via Foster e da ovest, da quella di Prato Smeraldo. Grazie a tutti!